Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Intervista del mattino a Ciriaco De Mita. Tema principale, le regionali della campagna di fine maggio. L'essenza di una delle domande. Cosa pensa del tentativo di ricostituire un polo centrista che stanno facendo gli ex di Cippo, Micino e Rotondi? La risposta è che gli ex democristiani sono quelli che sono rimasti democristiani, non coloro che hanno fatto o sono l'appoggio di Silvio Berlusconi. Quelli che si sono comportati in un modo del genere sono accattoni della politica. Cosa dire? Ogni tanto il grande Ciriaco dimentica di aver fatto in campagna per 5 anni l'appoggio di Stefano Caldoro, ieri e oggi uomo di punta di Berlusconi. come la mettiamo con gli accattoni della politica?